Il Tribunale di Padova ha condannato a due anni ciascuno Lina e Rita Bottaro, genitori di Eleonora, la 17enne di Bagnoli di Sopra, che tra il 2015 e il 2016 si ammalò di una grave forma di leucemia e decise di non curarsi con la chemioterapia. La ragazza, infatti, aveva accolto in pieno le tesi dei genitori che sposavano il metodo Hammer, trattando la malattia solo con vitamine e cortisone, morendo così in breve tempo, nell'agosto del 2016. Poco prima della sentenza, la procuratrice aggiunta di Padova, Valeria Sanzri, al termine di due ore di requisitoria, aveva chiesto due anni di pena per Lino e Rita Bottaro, una richiesta accolta pieno dal giudice. I genitori, infatti, sono accusati di omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento, perché, secondo il giudice che ha ascoltato durante il processo numerosi pareri medici, la figlia Eleonora avrebbe avuto buone chance di sopravvivere se avesse fatto la chemioterapia, come le consigliavano gli specialisti, ma decise invece di non curarsi con i metodi tradizionali. Secondo la procura, inoltre, i genitori hanno costantemente impedito alla ragazza di essere liberamente informata e di fare le proprie scelte in maniera consapevole e libera. Eleonora, ha spiegato la procuratrice in aula, si sentiva nelle mani del padre, il quale decideva ogni terapia, precludendole l'unica che le avrebbe potuto salvare la vita. Fino a pochi giorni prima di morire, era convinta di guarire, di compiere i suoi 18 anni, di poter andare in vacanza. La giovane, però, è deceduta il 29 agosto 2016, due settimane dopo il compimento della maggiore età. Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla, rifarei tutto quello che ho fatto, solo Dio sa quanto ha sofferto mia figlia. Questo l'unico commento di mamma Rita Bottaro al termine dell'udienza conclusosi con la condanna a due anni per entrambi.